Buongiorno a tutti, sono le 4.32 del mattino e mi sto, sono appena svegliata perché oggi c'è la MSC Orchestra a Venezia e devo essere lì alle 7 e quindi sveglia presto. Che strano vedere la luna al posto del sole, comunque sono le 4.46. Ragazzi sono le 5 della mattina, devo ancora fare colazione, non ce la posso fare, dai Roberta forse coraggio, mettete a fare qualcosa. Ragazzi trucco fatto e adesso andiamo a fare colazione. Bene ragazzi, sono in partenza, sono le 5.54, fuori è buio, che meraviglia, mi piace da matti partire con questa atmosfera qui. Bene, ci vediamo al porto. Bene ragazzi, sono arrivata al porto, è ancora buio e adesso sto raggiungendo di corsa il terminal Isonzo. Eccolo là in fondo, è uno dei termini più lontani del porto. Questo è il terminal 107, qui dove stiamo fiammando i water taxi. Bene ragazzi, eccoci, sono arrivata. Abbiamo fatto il test rapido, siamo negativi, evviva. Eccomi qua con la mia bella divisa, maglietta e poi MSC. Bene ragazzi, l'imbarco sta per iniziare, i passeggeri sono ben 1700, direi una nave di media dimensione. E niente, cominciamo. Allora ragazzi, se Dio vuole, oggi ho finito, sono le 15.44 e sto tornando a casa. Non ho più l'età per fare certe cose. Ciao, ciao, sono tornata. Ciao Grace. Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno. Non venghi se nascosta? Ciao amore, ciao, ciao Kika, posso passare? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Ciao, ciao piccola.